Salve, sono Ivano Messineo della Messineo Consulting, partner di Urban Media Agency. Sono qui per raccontarvi di un'ottima opportunità per le imprese che vogliono investire in pubblicità editoriale e locale. L'incremento pubblicitario viene premiato dallo Stato in che modo? Vi faccio subito un esempio per entrare nell'argomento e capire il vantaggio e il regalo che lo Stato ci fa se investiamo in pubblicità. L'incremento tra il 2018 e il 2019 viene premiato con il 90% di credito d'imposta utilizzabile per pagare le stesse tasse, imposte o tributi da F24 per dipendenti. Se spendo 100 euro entro il 31 dicembre 2018 in questa forma di pubblicità editoriale, sull'incremento, ad esempio su 1100 euro che vado a spendere nel 2019 per la medesima pubblicità e quindi sull'incremento che è 1000, vado a recuperare 900 euro di credito d'imposta. Un'ottima opportunità per chi vuole investire in pubblicità e farsi conoscere e allo stesso tempo recuperare un credito che altrimenti andrebbe perso se speso in un'altra maniera. Direi un'ottima opportunità che vi offre lo Stato grazie alla nuova finanziaria, come altri bonus sono stati introdotti e vi invito a rivolgervi a Urban Media Agency per le informazioni del caso.